la passione di gesù cristo di padre gaetano da bergamo 22 settembre gesù è mostrato al popolo da pilato punto terzo con l'intento di placare i giudei ferociti che si erano affollati in piazza per aspettare l'esito del processo pilato esce sulla loggia portando con sé gesù aspetta che tutti lo vedano poi dice ecco vi presento quest'uomo perché vediate come è stato ridotto e mitighiate l'ira che avete contro di lui io vi assicuro che non è colpevole di alcun delitto perciò non può essere condannato riflessione dicendo questo pilato si dimostra come pentito di aver fatto flagellare gesù e così indirettamente dichiara di avergli fatto un torto visto che è innocente se il salvatore poiché non ha commesso alcuna colpa è stato flagellato ingiustamente per lo stesso motivo sarebbe ancora più ingiusto condannarlo a morte questo in poche parole è quanto si può dedurre dal discorso di pilato è ben vero che la verità e l'innocenza non possono mai passare sotto silenzio il demonio può ben rendere la passione di gesù dolorosa fino all'inverosimile inventando tormenti sempre nuovi ma con tutta la sua malignità non riesce affatto a togliere l'onore dell'innocenza due volte quel giudice ingiusto aveva dichiarato gesù innocente e lo ha ugualmente condannato alla flagellazione ora lo ripete per la terza volta ciò nonostante finirà per condannarlo anche alla morte e io non faccio forse lo stesso ogni volta che mi accosto alla confessione riconosco che dio è il mio sommo bene e che non merita di essere offeso tuttavia di lì a poco l'offendo e faccio diventare la mia vita un circolo vizioso di peccati e di confessioni purtroppo queste confessioni come quella di pilato non servono ad altro che ad aumentare la mia malizia rendere più gravi i miei peccati colloquio dio mio ho tanta paura che le mie confessioni passate siano state fatte male perché non mi sono mai impegnato veramente a cambiare la mia condotta per chi si pente il perdono dei peccati è un effetto della tua passione perciò riconosco di averne abusato tutte le volte in cui mi sono accostato indegnamente al sacramento della riconciliazione abbi pietà di me e assistimi con la tua grazia finché io possa riparare le mie mancanze infatti senza una giusta riparazione che porti con sé un radicale cambiamento di vita è impossibile che chi ha peccato si riconcili con te pratica cercherò di individuare le mie cattive abitudini e di eliminarle l'essere riusciti a correggerci si fa ben sperare di aver ottenuto nella confessione il perdono